Bastano i nomi di Rossini e Raffaello per declinare in arte la provincia di Pesaro e Urbino e la cucina, la pizza in questo caso, è una forma di creatività e perché no di estro artistico e di eccellenze territoriali, come quelle che a livello enogastronomico questa provincia può esprimere e del resto si sa, il maestro Rossini era un affermato gourmet dell'epoca. Dal 23 ottobre fino all'11 dicembre torna all'iniziativa le pizze Terre di Rossini e Raffaello. 13 degustazioni guidate nelle pizzerie e nei ristoranti aderenti all'iniziativa al costo di 16 euro a persona. Noi abbiamo messo in campo tantissime iniziative, questa è una delle tante, è una delle tante che vede già 13 pizzerie che lavorano su questo prodotto, è un modo per affrontare anche quelle che sono le nuove esigenze della gente perché sono dei gusti nuovi, sono dei preparati tutti particolari che contengono soprattutto, e questa è la cosa più bella, contengono soprattutto i prodotti del nostro territorio. Le nove pizze appositamente coniate per il progetto sono farcite con i prodotti nostrani e le DOP locali. Una delle nove, le DOP in pizza, contiene casciotta d'urbino, olio cartoceto e prosciutto di carpegna DOP. Inoltre le pizze vengono accompagnate dai vini DOC della provincia, Bianchello, Colli Pesaresi e Pergola. Credo che sia veramente un progetto intelligente perché con tutti i nostri prodotti del territorio, invece di costruire normalmente una cena alla quale possono partecipare magari pochi, soprattutto per il prezzo, l'idea è stata proprio di mettere questi nostri prodotti sulle pizze. Un'iniziativa, quella delle pizze di Rossini e Raffaello, che è giunta alla sua sesta edizione, con un incremento degli aderenti, due in più rispetto agli anni passati, e finalmente, dopo averla sempre snobbata, anche un ristoratore della costa, a testimonianza dell'interesse crescente per questa iniziativa che ha portato sensibili aumenti di fatturato a chi vi ha aderito. Noi abbiamo iniziato sei anni fa, abbiamo cercato di far sì che i nostri prodotti, non solo nella degustazione semplice, venissero in qualche modo valorizzati, ma anche cercando un connubio con la ristorazione, in questo caso con le pizzerie. Questo è sicuramente un modo per cercare, vista anche quella che è la professionalità delle nostre pizzerie, quelle che aderiscono, che hanno aderito a questo progetto, sicuramente di valorizzare ulteriormente i nostri prodotti.